Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario. Andiamo insieme a vedere le notizie del giorno. Si torna a parlare dell'incendio all'ospedale di Tivoli. Nella conta delle vittime dell'incendio dell'immacolata all'ospedale San Giovanni Evangelista ci sarebbero finiti altri 20 pazienti dei reparti di rianimazione, unità coronarica e medicina. Se solo infermiere soccorritori non avessero portati via nel più breve tempo possibile anche in braccio in modi disperati. Intanto prosegue l'inchiesta della procura. I sistemi di erogazione e quello del sottovuoto che alimenta gli aspiratori si sono bloccati nell'arrogo che ha messo in ginocchio la struttura. Continuano ovviamente le indagini per capire cosa non ha funzionato. Parliamo anche della centrale del latte. Dopo 27 anni la centrale del latte dice addio al colosso francese Lactalis che attraverso la Parmalat ha controllato per anni lo stabilimento dove si produce il latte dei romani. Ha riportato la centrale nelle mani del Campidoglio che ne ha affidato la guida operativa a Fabio Massimo Pallottini, già presidente di Italmercati, rete italiana dei mercati ortofrutticoli, politici all'ingrosso e direttore generale del CAR, il centro agroalimentare di Roma. E proseguiamo con le notizie romane. Fabio Rampelli non piace proprio la stella rossa dell'albero in Campidoglio e ci vede troppo comunismo e poco Natale. Così su Instagram ha legato di foto l'onorevole di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera dei Deputati scrive incredibile ma vero solo la città metropolitana di Roma governata dalla PD poteva scegliere una stella rossa al posto di una punta di Natale, una sfera di cristallo, una stella d'argento d'oro o un fiocco. E torniamo a parlare anche dei licei occupati al tasso e prevista la sospensione da 3 a 10 giorni. Agli studenti colpati sarà concesso di difendersi. Al Mamiani invece l'allontanamento è di almeno 5 giorni e al Manara è previsto il risarcimento di danni oltre a un massimo di 15 giorni di stop. La stanzione più dura tra quelle dei regolamenti di disciplina dei licei occupati in simultanea tra il 4 e il 5 dicembre scorso sono il Virgilio, il Morgani, il Colonna, il Tasso, il Mamiani e il Manara. Il Righi invece è già stato lasciato dagli studenti. I presidi valutano oltre alle sospensioni anche il risarcimento dei danni effettuati. Intanto la Digos continua le indagini sui licei che rimangono occupati. Vediamo anche le celebrazioni della Nucca. Ieri a Roma in Piazza Barberini anche quest'anno ha ospitato la tradizionale festa ebraica per celebrare la vittoria dei Maccabei contro l'occupazione gleca dell'attica Giudea. A organizzare la cerimonia di accensione della Ciannucchia, il mega candelabria al centro della piazza per il 36esimo anno del movimento ebraico internazionale Shabad Lubatwitch. Con questa notizia noi concludiamo il nostro notiziario. Come sempre grazie per essere stati con noi e vi rimando ai prossimi appuntamenti. Non cambiate canali.